Ciao ragazzi, come promesso, già dalla scorsa settimana, ieri alla ricerca di Lucone e oggi l'abbiamo portato qua al Bianconero perché credo che abbia tantissimo da raccontarci di questa grandissima intervista che ha fatto, un vero colpaccio quindi benvenuto Lucone qua al Bianconero, bentornato anzi. Ciao ragazzi, ma poi è sempre bello stare qui con voi e fare due chiacchiere, qualsiasi argomento. Piacere, piacere reciproco ovviamente. Poi non poteva mancare il direttore che quest'anno Ibiza mi sa che la vede solo dalla cartolina. Ciao Rom. Vado su Google Maps, grazie Lellone. Ciao Luca. No, io non definirei un'intervista perché sarebbe riduttivo, è un flusso di coscienza, è una chiacchierata tra amici. Ha fatto un enorme lavoro Luca e quindi mi ha dato totale credito e soprattutto poi racconteremo come questa cosa secondo me crei un qualcosa di nuovo anche a livello di comunicazione e a livello giornalista. Sì, sono molto d'accordo con Romeo anche perché credo che sia uno dei pochi casi qua in Italia dove un giocatore proprio si apre completamente ai media non convenzionali. Cioè youtuber che riesce a strappolare un contenuto simile, tanta roba. L'abbiamo visto in altri paesi come la Spagna, i bike è un gigante però lì e insomma ha avuto delle esclusive di mezzi eccetera. Magari chissà che si arrivi anche a questo, a questo modo di raccontare il calcio che secondo me porta uno l'interlocutore ad aprirsi molto di più e due credo che sia un modo più fruibile, più terra terra quasi per chi lo vede e quindi un contenuto molto godibile. Io ragazzi prima di iniziare ovviamente con questa chiacchierata rinnovo l'invito ad abbonarvi. Siete tantissimi ma abbiamo una marea di contenuti per voi da lunedì alla domenica quindi sette giorni su sette, i vari podcast mattutini sono dedicati a voi. La diretta integrale, questa diretta integrale, queste chiacchierate, anche quella domani con il tacco eccetera e tutte le live rimarranno a disposizione di chi è abbonato. Invece chi non è abbonato comunque vedrà degli spezzoni quelli principali, mi raccomando. Lucone, raccontaci un po' da dove tutto ha avuto inizio, questo rapporto con te. Perché come è fatto a conoscere te? Qualcuno pensa, lo ha pagato? Raccontaci, ma io so tutto ma... Se l'ho pagato sono rovinato. Il cascerone di quelli più economici. Sono le cifre che girano nel mondo del calcio e l'ho rovinato. No, allora, detto bene Rome prima, è una cosa diversa. Io l'ho intitolata in intervista perché non esiste una parola diversa per raccontarci questa cosa qui e soprattutto perché volevo dare il concetto di esclusività, perché è stato lo stesso Scesni a mettere le cose in chiaro nel video dicendo io parlo qui e credo di doverlo fare solo qui. Non ho niente da dire a nessun altro. Poi è entrato a gamba tesa con quella battuta del tanto non so parlare in italiano con chi devo parlare in Italia che è stata anche molto simpatica. Però penso che questa cosa possa nascere solo in seguito a davvero un qualcosa che si viene a creare. Perché è vero che probabilmente è davvero la prima volta che in Italia vediamo una roba del genere ma se avessi avuto la possibilità di fare un'intervista esclusiva come questa faccio un nome con Del Piero o con Buffon con i quali io non ho mai avuto nessun tipo di rapporto non ho mai avuto la possibilità di entrare un po' più nel dettaglio nella sfera personale di queste persone per quanto siano i miei idoli e saranno per sempre i miei idoli perché nel momento in cui è stato a seguire il calcio queste le campioni del mondo sono andate in B quindi mi è andato qualcosa in più non saremo riusciti ad arrivare a quel tipo di legame secondo me e di apertura che è venuta fuori quindi davvero io credo che questo sia un unicum non so se diventerà un qualcosa che magari potrà essere non lo so, si potrà rivedere in futuro dipende intanto dai calciatori ci avrà la volontà di passare tra virgolette al lato scuro del web perché questa è stata una cosa bella perché non ho mai fatto un taglio cioè nel... quando ho iniziato a registrare a quando è finita non ci sono tagli è un'ora e dieci di chiacchierata continua infatti la prima domanda che ho fatto a Scesni è stata c'è qualcosa di cui non mi vuoi parlare, non ti devo chiedere cosa che difficilmente probabilmente un giornalista va a fare prima di un'intervista perché magari cerca anche proprio la volontà di andare a un determinato argomento ascoltando e lui mi ha detto te chiedimi quello che vuoi al massimo se non ti voglio rispondere non ti rispondo e mi ha fatto ridere perché è veramente un concetto di libertà che secondo me è impossibile da vedere nella comunicazione e nell'informazione di oggi la cosa assurda è che è nata proprio da lui cioè è lui che mi ha scritto per la prima volta vedendo un mio video facendosi ispirare da una mia scelta professionale ricordo Luca era il video dove tu annunciavi che avresti lasciato il tuo lavoro da dipendente esatto e vi posso assicurare che a livello proprio personale quello è stato un periodo particolarmente intenso perché ti stai lanciando da un aereo senza il paracadute e speri semplicemente di atterrare io volevo fare qualcosa di grosso prima dei 30 anni ma lasciare un contratto a tempo indeterminato per inseguire una passione è una cosa che solo se ti manca qualche rotella puoi fare e quindi in quel momento lì di tanti dubbi e domande anche perché ero andato a vivere da solo da tipo due, tre mesi al massimo quindi aggiungere proprio carne al fuoco ricevere un messaggio di quel tipo lì ti dà anche una forza e una carica fuori dal mondo quindi per me quel messaggio è stata una spinta una spinta grossa che mi ha fatto veramente dire ok adesso devi dare ancora di più di quanto non potevi dare prima è così come è nata da un lì l'idea dell'intervista cioè io nei giorni in cui si parla dell'Al Nasr e gli dico sto leggendo che è praticamente tutto fatto mi dispiace qui e là bla 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 lui mi risponde Luca ma te leggi un po' troppo mi risponde proprio così leggi un po' troppo dire che è fatta è assolutamente eccessivo poi magari succederà ma ad oggi di fatto non c'è niente poi se andrà così e andrò via dalla Juve andrò in Arabia faremo una chiacchierata al suo canale e ti spiegherò tutto e quando invece annuncio il ritiro e gli mando un messaggio e gli dico mi dispiace che si aprì l'intervista eccetera eccetera lui mi risponde dicendo quando vuoi facciare la chiacchierata quindi la cosa bella è che è stato lui cioè tutti i passaggi sono roba su anche perché io non avrei mai la faccia tosta anche per dire vabbè facciamo una chiacchierata e la serie poi passa il tempo e ciao è tornato no no certo due volte due volte io non avrei mai la faccia tosta di andare a dirgli allora dai la facciamo perché se la vuoi fare la facciamo è una tua idea io io conosco il come posso dirti il limite da non sorpassare perché comunque dobbiamo parlarci chiaro io sono un tifoso loro sono i calciatori sono dei professionisti sono dei tesserati anche delle squadre ovviamente questa cosa è stata possibile solo perché Cesani non è più un tesserato Juve perché sennò c'è da fare un passaggio di burocrazia che è fuori dal mondo quindi questa cosa non si potrà riproporre con dei calciatori tesserati però è bello vedere che dopo tanti anni all'interno di una squadra non siamo solo noi tifosi che ci affezioniamo ai calciatori ma ci sono anche i calciatori che vanno a affezionarsi ai tifosi ora il mio caso è un caso particolare sono tutti casi unici no? ci sarà il calciatore che si va a affezionare a quello in curva che tutte le volte magari va a lanciarvi la maglia cioè ci possono essere una miriade di esempi però secondo me abbiamo iniziato a far venire fuori un pochettino quel qualcosa che invece è sempre stato nascosto ora dato che siamo qui tre amici possiamo chiacchierare vi faccio un altro esempio di un'altra cosa che quando mi è successa mi sono detto ma come e lei lo era presente anche eravamo fuori dal J Hotel l'anno scorso fine di Juve Monza si avvicina un signore mi fa ma tu sei quello che fa cos'è che mi ha detto un termine stranissimo proprio un termine di una volta le trasmissioni su internet tu sei quello che fa le trasmissioni su internet si salve se no io fa bravo ti seguo sempre mi fa piacere grazie gentilissimo sono il papà di fagioli io lì mi sono paralizzato ma come mi fa riderissima questa cosa e quindi vedete che sono tutte cose un po' particolari che però alla fine vanno dentro quel calderone lì e si tratta di comunicazione cioè io tante volte mi sono fatto questa domanda ma se io fossi calciatore della Juventus o calciatore in generale vorrei sentire cosa pensano di me i tifosi e io per come sono fatto la risposta che mi sono sempre dato è stata sì sì lo vorrei sapere poi magari c'è chi è più riservato e chi è meno riservato io probabilmente sarei curioso e andrei a vedere anch'io passo la parola a Romero quanto ti invita al massimo a me la chiacchierata a me la chiede la fidanzata che grande Riccardo no ripetevo tu questa analisi bellissima di Luca perché Luca ha detto giustamente se Shesney fosse stato un tessalato della Juve avrei dovuto fare magari miliardi di passaggi burocratici però per me Lu l'evoluzione è proprio questa cioè con delle chiacchierate che vedranno sempre più protagonisti youtuber creators e meno carta stampata giornalisti in generale perché se Shesney sceglie Luca Toselli perché a stima di Luca Toselli perché segue i tuoi contenuti Shesney avrei avuto parlare con miliardi di televisioni miliardi tra i media e anche un poliglotta no quindi avrei avuto fare interviste in inglese pagato anche prendendosi prendendosi anche dei soldi certo invece no qua c'è anche l'accomano di Shesney che è una persona incredibile ma c'è la bravura di Luca che attraverso il suo ottimo lavoro quotidiano invoglia il papà di fagioli Shesney a seguire i suoi contenuti chissà quanti altri quindi secondo me si crea un segnale un qualcosa che va anche a tagliare il cordone umbilicale con i media tradizionali e che porta a dire in futuro questa attività verrà intensificata ma anche con i tesserati stessi ma sai cosa Rome io tante volte ci ho pensato tu non nasci sul web tu sul web ci arrivi di conseguenza perché arrivi sul web perché è una finestra perché è la possibilità di raggiungere tante persone in più che magari qui hanno non lo so mi è capitato tante volte davanti allo stadio mentre bevevamo una birra prima di entrare arrivano dei ragazzi facciare la foto sì e uno mi dice quando lo avevo i piatti quando sono in pausa pranzo mentre vado in ufficio uno mi ha detto mentre sollevo i pesi e gli ho detto ma che spinta ti viene da fare mentre io ti parlo nelle orecchie mentre sollevo i pesi emotiva emotiva addosso ti soffochi però è ovvio che queste sono frontiere no ora oggi se vogliamo youtube è anche abbastanza vecchio io quest'anno ho festeggiato i dieci anni su youtube quindi vuol dire che è una piattaforma che ha i suoi anni io non sono neanche arrivato subito però se anche i giornalisti oggi devono arrivare qua e perché vogliono arrivare qua un motivo c'è però io io e te Rome ne abbiamo parlato anche in privato adesso non mi ricordo eravamo in macchina una volta stavamo andando allo stadio da qualche parte e io ti ho detto guarda che io sto scrivendo articoli perché voglio prendere il patentino mi manca poco tempo e poi prendo il patentino tu mi hai proprio io mi ricordo tu mi hai detto ma ne sei sicuro ecco io ho finito quel percorso e ho deciso di non prenderlo il patentino perché ho fatto un ragionamento ma non c'è bisogno secondo me di quel pezzettino di carta ma ho ragione perché la mia volontà non è scrivere articoli io credo che il mio punto forte sia l'empatia l'emotività che metto dentro i contenuti e credo che la figura del giornalista invece vada in una direzione un pelo diversa cioè un conto è se il giornalista scrive sul giornale mi deve raccontare l'attualità mi deve raccontare la cronaca deve essere veramente schematico con quello che mi dice deve passarmi l'informazione un conto magari è se apri il tuo canale youtube del giornalista in cui puoi fare un po' più di analisi però io mi vedo molto di più come opinionista e molto meno come giornalista poi è stato un percorso che mi è servito perché mi è servito anche scontrarmi con determinate dinamiche cercare di capire sullo scritto piuttosto che sul parlato come potevo mettermi in gioco però effettivamente oggi credo che la figura del giornalista per come è sempre stata ok? come è plasmata sia una figura un po' antiquata perché? perché il pubblico è abituato ormai tutti sono abituati a quella roba lì e invece credo che questa intervista sia stata diversa perché è qualcosa di strano è qualcosa che non vedi tutti i giorni ed è qualcosa che va a colpirti l'emozione piuttosto che l'aggiornamento quindi secondo me sarebbe cosa buona e giusta proprio per i mass media oggi cercare anche qualcosa di più rispetto al ti passo l'informazione però capisco che sia complicatissimo un discorso che qua probabilmente tu ne avresti da parlare per ore no no però hai ragione Luca e se vogliamo questo passo già lo si sta un pochettino facendo perché tu giustamente hai rimarcato ora ci sono i giornalisti che sono su YouTube io arrivo su YouTube per il 2019 da memoria 2018-2019 perché poi senti l'esigenza di imparare un nuovo linguaggio di cercare di ottenere l'attenzione di chi vuole altro cioè banalmente ora i ragazzi di 12-13 anni l'articolo non te lo legge più vuole magari guardare un video e vuole vedere video sempre più corti quindi io ho fatto gli minuti però dai quella quella è una chiacchierata di vita che te la devi guardare anche se fosse stata di 12 ore però è ragionissima è ragionissima e bisogna cercare di proporre un prodotto che sia fresco e che arrivi a più generazioni io ragazzi guardate al di là di tanti progetti editoriali che sto vedendo qua su YouTube in generale credo che ci sia proprio anche un problema di business model che non è ancora centrato dal punto di vista editoriale credo che Romeo possa confermarlo dal punto di vista del sito i guadagni che derivano dal sito in ads eccetera sono molto complicati queste piattaforme danno un assist importante perché banalmente quello che fa video almeno te lo ripaghi e poi è un'esposizione completamente differente è un'utenza che non devi creare non devi portare la gente sul sito la gente già sul sito ti trova ti becca e fidelizzi è molto più semplice bravo Lellone hai ragionissimo poi c'è qua ti offre ripeto una possibilità di monetizzazione differente è anche un'esposizione per i brand stessi che diventano molto più interessati a investire su un progetto editoriale più o meno strutturato io credo che Fanpage che fa tutt'altro rispetto a noi sia un esempio lampante di come facciano informazioni e poi possono piacere o meno i contenuti però dal punto di vista Lellone banalmente è il 101% ragione come abbiamo creato adesso l'evoluzione del bianco nero io non è che pretendo che colui che poi quotidianamente legge il rullo del bianco nero poi venga anche su youtube si fa una clientela specifica chi vuole il prodotto su youtube c'è youtube chi vuole leggere il sito c'è il sito o chissà quante altre cose faremo anche perché banalmente se tu vuoi cercare di accontentare il pubblico non devi chiedere al pubblico di venire a casa tua cioè chi mi guarda la live di twitch non è necessariamente chi mi guarda il video di tiktok siccome non è necessariamente chi mi va a leggere il tweet che scrivo su x cioè sono persone diverse hanno età diverse culture diverse idee diverse tempistiche diverse in una giornata quindi devi essere bravo tu a andare a trovarli nella loro comfort zone esatto tu devi essere disponibile dappertutto e su ogni social devi capire che tipo di linguaggio utilizzare che non significa essere una persona su uno essere una persona sull'altro però magari voglio cercare di scherzare un po' di più su una determinata piattaforma e cercare di essere un po' più serio nell'altra che sono tutte sfaccettature dello stesso carattere della stessa persona però sai che una persona che va su tiktok non vuole magari sentirti la pagella in cui dici allora di gregorio sei perché non gli ha mai tirato in porta no vuole una roba un po' più divertente quindi devi essere anche bravo te nel rimanere aggiornato sulle comunicazioni che vanno sulle determinate piattaforme qualcuno dice non bisogna neanche adattarsi alle nuove generazioni e poi passiamo di nuovo all'intervista ragazzi perché è quella la ciccia vera però vi dico ragazzi che le nuove generazioni bisogna provenire da colino in bocca per i contenuti un po' più lunghi e quello è l'inizio cioè è un funnel parti dal piccolo avete visto anche i grandi podcast fanno i vari spezzoni per indurroti poi a guardarti la puntata intera e credo l'hai fatto anche tu lui sarebbe bello che adesso le analitiche di youtube forniscono anche i dati di quanti passano da quella a quell'altro che è la nuova evoluzione delle analitiche che dovranno fare ma sicuramente ci sarebbero dei dati interessanti anche da quel punto di vista tornino a snobbare non si possono snobbare cioè io capisco quello che dice Emilio e sono d'accordo ed era però il ragionamento che facevo io dicevo io sono un giornalista perché devo andare su youtube a parlare magari con gli youtuber e a prendermi quella che non mi interessa poi però invece ho capito che quella era una cavolata perché le nuove generazioni in generale i nuovi media vanno cavalcati perché poi diventano la fan base nel tempo quindi è giusto su me fare qualità e creare un'educazione anche a livello culturale ovviamente noi parliamo di calcio quindi prettamente calcistica però non posso nemmeno dire no ma chi se ne frega il dodicenne va al parchetto no non guarderà mai no devo cercare di capire attraverso un prodotto come essere accattimate anche per quella fascia d'età esatto allora lui io ti chiedo hai avuto sicuramente delle aspettative iniziali prima di iniziare a registrare prima qual è quella cosa quella domanda quell'argomento quelle chiacchiere che sono immerse dall'intervista che ti hanno sorpreso che ti hanno spiazzato allora parto dicendo che prima della serata in cui abbiamo registrato ho fatto una live sul canale in cui avevo già annunciato che sarebbe uscito in settimana il video con Scesni e la live si chiamava Aspettando Scesni per capire anche un po' la community che tipo di domande voleva fare no e un ragazzo a un certo punto mi ha fatto una domanda che mi ha fatto riflettere mi ha detto sei teso sei preoccupato e io ho detto cavolo no per niente io sono una persona che l'ansia personale quando sa che devi fare una cosa in cui sei coinvolto solo tu non ne ho mai particolarmente magari poteva essere i momenti in cui andavo a dare l'esame o robe del genere all'università però io non ho mai particolarmente ansia mentre invece poi sono andato a fare la spesa dopo la diretta così ho iniziato a dire cavolo fra tre ore parlo con Scesni e non mi sono neanche buttato giù una scaletta cioè non avevo preparato niente e allora ho detto sai che cosa facciamo così con la spesa in macchina mi sono seduto ho tirato fuori il blocco note del telefono in sette minuti ho buttato giù un po' di domande che mi piacevano ho fatto un tweet ho fatto una storia ho chiesto alla community che cosa volete chiedere a Scesni e le tre domande più interessanti le ho buttate dentro all'interno della lista ecco è stata una roba semplice ma perché Scesni è stato bravo tante persone mi hanno scritto una cosa e cioè che sono stato bravo a metterlo a suo agio no non è vero è il contrario è stato bravo a mettere lui a mio agio me perché lui di interviste ne aveva fatte un miliardo come dicevate prima anche dei media più grandi lui ne ha rilasciate due una in Polonia quando si è ritirato e una in Italia a me quindi era la seconda volta che parlava in generale però lui è abituato a queste cose invece ero io che ero preoccupato a un certo punto perché ho detto cavolo sì va bene ci siamo sentiti ci siamo visti abbiamo scherzato però adesso dobbiamo fare veramente una roba diversa quindi è stato bravo se non bravissimo lui a mettermi a mio agio invece dall'altra parte c'era anche lui che era preoccupato perché a un certo punto mentre io sono lì che butto giù le domande mentre faccio la spesa lui mi scrive e mi dice sì ma io cosa devo preparare che io con la tecnologia invece non sono bravo cosa devo scaricare mi metto avanti quindi in quel momento lì in cui io mi preoccupavo nell'interagire con lui lui si preoccupava invece nel cercare di essere pronto per questo tipo di tra l'altro Luca lui aveva forse ve lo ricorderete alla Roma lui aveva una trasmissione su Roma Channel o che non so se fosse lui aveva ad un certo punto quando ha fatto un paio di pari a Roma gli avevano affidato una rubrica se non sbaglio un settimanale dove lui intervistava o i compagni e io me lo ricordo perché avevo parlato negli anni con gente che lavora nel digital della Juve e diceva scusate ma avete Scesni che è un personaggio straordinario ha fatto quel programma a Roma perché non gliene fate fare uno su Juventus TV quando Juventus TV era in maniera un po' più tradizionale avrei cambiato Juventus Creator Lab e tutto quello che conosciamo e mi hanno detto ah è vero effettivamente io ho visto degli spezzoni dove lui era spassosissimo sembrava un comico no? Carlo Conti ti intratteneva le domande la battuta quindi secondo me lui anche questo probabilmente anche questo aspetto ha facilitato la chiacchierata perché lui ha i tempi sì sì lui ha i tempi comici cioè anche dal nulla lui mentre faceva un discorso serio poi a una certa ti buttava lì una frase che te subito ti sembrava decontestualizzata e poi invece l'andavi a ricondurre a una cosa che la diceva perché perché era una battuta quindi magari ti arriva dopo un secondo perché sta dicendo tutta un'altra roba ma poi quando ti arriva a un certo punto gli ho dovuto dire sei proprio un somaro perché stava parlando tutto serio della partita con la Fiorentina la più bella parata della mia vita la Juventus su Nico Gonzales se era un periodo in cui la Juventus non vinceva era un periodo in cui dovevano portare a casa punti la parata più bella e lui ti va a dire partita sentitissima per loro cioè io ho proprio detto sei un somaro perché era arrivato al climax massimo e me l'ha sgonfiato in una maniera che non potevo prevedere quindi è un fenomeno e la cosa che mi ha lasciato più di stucco è stato quando mi ha parlato intorno al minuto 42 me lo ricordo perché quando ho 52 quando sono andato poi a tagliare il video sono andato diretto lì il primo contenuto piccolo che ho fatto di video è stato quello quando lui mi dice io a settembre giuntoli mi dice nell'anno scorso voglio rinnovare il contratto e io in tre minuti gli rispondo sì ma io l'anno prossimo non gioco più cioè lui l'aveva già pensata questa cosa e questa cosa qui mi ha veramente lasciato di sasso perché noi siamo stati ecco uno che ne sa sicuramente qualcosa grande è giù e lui noi siamo stati tutte state magari a farci dei conti in testa perché lo vanno a prendere adesso perché fanno questa scelta invece Scesni che ci mancava il pezzettino mi ritiro e ci mancava il pezzettino l'ho già deciso da prima e secondo me con questa intervista ha messo tutto a posto ora apro una parentesi gigante che magari a Romeo potrebbe ancora dare più fastidio rispetto a quanto me ne ha dato me perché è un professionista di questo settore però a me è dispiaciuto di vedere delle testate che hanno preso dei pezzettini di intervista e sono andati a crearci dei casi cioè Scesni attacca la Juve Scesni contro la Juve cioè Scesni dice questo aggiuntoli era la persona più tranquilla del mondo e con questo pezzo andava veramente ad incastrare un discorso in cui tutti erano felici contenti lui ovviamente un po' più triste ma l'ha accettata ed erano tutti sereni infatti dice non la condivido ma capisco nel senso certo cioè non mi piace la scelta che è stata fatta però la capisco ma questo non è esattamente il motivo per cui Scesni ha parlato con te e non con la mia categoria però però sì però non facciamo passare il messaggio che la categoria dei giornalisti sono tutti brutti ci mancherebbe altro però il calciatore si sente più in comfort zone a parlare con te perché magari lo metti in difficoltà ma senza volerlo cioè non è che stai lì in maniera mirata per portare a casa il titolo non hai bisogno al momento che hai Scesni hai già il prodotto se invece devi decontestualizzare cercare di mettere zizzagna o non è che ti guardi l'ora di intervista ma vai solo a cercare quel singolo episodio per poi ricamarci allora ci meritiamo come categoria che Scesni parli con quelli bravi però Rome secondo me è anche un discorso un po' più ampio nel senso il giornale la testata che ha contatti no quante interviste magari anche esclusive in un anno va a portare tantissime c'è magari di ex calciatori magari di ex dirigenti ex allenatori io non ho lette tantissime di interviste esclusive negli ultimi anni su tante testate però è ovvio che se l'intervista esclusiva poi è mi vado a leggere tre righe in cui mi riassumi quello che è stato detto io vado a perdere quella parte che è l'emozione cioè perché vai a vederla cioè su tutte le testate è uscita il virgolettato di quello che si è detto addirittura a Gazzetta che è stata la prima a pubblicare il mio video usciva alle 13 Gazzetta ha fatto uscire l'articolo alle 11 perché avevano già il video che era riservato agli abbonati e si vede che erano andati a vederlo in anteprima e quindi avevano fatto l'articolo avevano riportato praticamente tutti i passaggi chiave nel virgolettato sì però il virgolettato è freddo cioè non è un abbraccio il video invece è un abbraccio è una coccola che ti concedi magari davvero mentre sei a cena la serata ti metti sul divano con una birra e in sottofondo ti tieni questo è veramente una coccola che ti dai quindi secondo me quello che manca oggi è questa roba qui cioè tante volte le interviste correggimi se sbaglio Rome magari sono chiamo il numero che mi hanno dato faccio le tre domande trascrivo metto giù non così velocemente ovviamente dopo devi lavorarlo però poi il prodotto che offro è mi leggo questa roba qua sì però io faccio un esempio prima c'è stata la conferenza stampa di Copemanner se so che dopo ci andremo e io tutte le volte conferenza stampa prepartita presentazione me le trascrivo e poi le racconto e dico le mie emozioni però tutte le volte dico andatevele a vedere le conferenze stampa perché quello che trascrivo io non è il tono in cui lo dice l'allenatore o il calciatore o la voce o la smorfia quelle lì sono cose in cui vai poi sono tutte le tue interpretazioni è qualcosa in più ed è questo il limite secondo me della carta stampata oltre che la tempistica perché la carta stampata ha questo problema della tempistica esce il giorno dopo che magari non lo so in calciomercato alle due di notte la trattativa si sblocca alle sette del mattino viene in ufficio e visto che la Juve ha preso con sei sao sì però se sono già andati in produzione te lo dico domani sul giornale quindi secondo me questi sono i due grandi limiti di un prodotto che era eccezionale qualche anno fa e che oggi invece deve rinnovarsi Lelone c'è anche un altro tema che si va ad aprire secondo me una volta parlando con un ex giocatore della Juve mi dice ma io il primo check-in da solo l'ho fatto a 38 anni perché noi viviamo in una bolla noi calciatori hai il travel manager tu arrivi a Caselle ti dà un biglietto col passaporto passi ma dietro quel biglietto non c'è il tuo lavoro non è che ti metti tu sul sito e questo mi è detto io mi sono accorto una volta ritiratomi che vivevo in una bolla cioè non hai rapporti con i giornalisti non hai rapporti con youtuber sì poi magari si creerano delle amicizie personali e e questo mi fa riflettere perché ci sono i giocatori che secondo me vengono a Cagliuscesni che magari se potessero cercherebbero di ampliare i loro orizzonti cioè non rimanere vincolati al fatto che tu debba avere i paraocchi perché sei un tesserato non puoi guardare né a destra né a sinistra e là bisogna lavorare là bisogna lavorare a livello di club secondo me a maggior ragione per la richiesta che c'è attualmente però sai Rome cosa io credo che questo sia davvero un unicum come dicevo prima per Cagliuscesni cioè Cagliuscesni anche quando era tesserato e parlava lui mi ha un po' preso per il culo in questa cosa nell'intervista dicendomi dopo quando parlavo anche se facevo interviste normali ma le interviste che ha fatto Cagliuscesni in questi anni non sono mai state normali perché tutte le volte che parlava Cagliuscesni avevi un argomento di discussione perché ti nasceva una riflessione cioè quel famoso non parla bene l'italiano che nasce dopo il Siviglia è il portiere che va alle telecamere e ti dice tutto il contrario di quello che è la filosofia dell'allenatore e poi non è chi dice glielo vado a dire perché mi sta sulle palle lui stesso nell'intervista dice io ho un grandissimo rapporto eccetera eccetera però se lui pensa quella roba lì non è che si morde la lingua e te ne dice un'altra quindi io credo che debba partire non solo dalla categoria dell'informazione eccetera eccetera quanto più dalla comunicazione stessa che dentro i club ti vanno a dare perché se ti dicono sì tu vai davanti alle telecamere e devi dire questa roba qui non sarai mai autentico non sarai mai te e non ti verrà forse nemmeno mai voglia anche quando non avrai più limiti o vincoli di essere davvero te stesso quindi o lo sei sempre o lo sei mai secondo me non ci sarà diciamo che la voglia di comunicare di tanti calciatori per cercare di tenere una linea del club viene spesso pressa e dice tieniti da parte i tuoi pensieri ma certo io ho ascoltato recentemente in un podcast Giorgio Terruzzi giornalista straordinario di motori dove lui raccontava le differenze tra vivere il paddock per 30 anni Formula 1 quindi vai a creare rapporti con Berger Senna Mike Schumacher eccetera eccetera e le interviste dei calciatori diceva sono di una banalità disarmante abbiamo fatto una bella partita siamo un bel gruppo e quindi cosa significa che è il calcio a livello di azienda a livello di club a imporre determinate linee che rendono ridicoli ormai anche gli stessi calciatori perché tu ascolti difficilissimo sentire un calciatore con tutto rispetto che in un'intervista o una conferenza stampa ufficiale non dica banalità Chesney era un'eccezione l'abbiamo detto più volte infatti nella chiacchierata che ha fatto con Luca lo ha confermato al 101% ma i giocatori hanno questa sorta di formamenti se no imposta dove devono recitare un motivetto una fila strocca che alla fine tende a stufare chi fa le domande perché non riceve risposta questo c'è il grandissimo tema Tiago Motta Tiago Motta non risponde alle domande sì cioè nel senso Tiago Motta non entra nello specifico di niente però è una colpa di Tiago Motta no è figlio Tiago Motta dal punto di vista comunicativo di un mondo che è così da tantissimo tempo io ricordo che quando parlavo con vecchi decani il grandissimo Bruno Bernardi che ora non c'è più che è stata una storica prima della stampa e ha frequentato Juventus TV quando ci andavo anche io Bruno Bernardi mi diceva ma io quando andavo al combi avevo rapporti personali con Giovanni Trappattoni quando facevo una chiacchierata con Iperti cioè parlavo con Scirea magari andavamo anche a cena e c'era questa regola ovviamente non scritta di ascoltare mai riportare però io andavo lì per capire che ora quel mondo non esiste più e siamo alla fine della banalità perché è un mondo finto posso dire una cosa un qualcosa che potrebbe pepare il tutto a me piace molto invece l'atto comunicativo anche l'NBA tant'è vero che se un appassionato di NBA americano venisse a vedere tutto ciò che si muove attorno comunicazione e calcio in Italia rimarrebbe basito dal fatto che a. i giocatori parlano troppo poco davanti alle telecamere b. dicano delle banalità come diceva Rome l'ha addirittura non di parlare tanto durante l'arco della settimana cioè Lebron Lebron concede una marea di contenuto che tiene anche sempre alto l'hype attorno a tutto il circo dell'NBA che c'è immaginatevi questa cosa in Italia conferenza stampa gli allenatori uno di fronte all'altro che parlano pre partita che succede quasi in Champions League ma parla prima l'uno e parla l'altro sì non sarebbe male eh non sarebbe male perché ti va a pepare anche se ci sono delle frizioni se c'è qualcosa i giocatori migliori parlano sempre danno sempre contenuto e non dicono banalità anzi quante volte vediamo ah NBA c'è quello là che lancia la frecciata all'altro eccetera molto più bello dal punto di vista comunicativo qua siamo ai modelli sms cioè tu leggi un'intervista ai modelli sms o tardi o riunione ci sentiamo più tardi quella roba là sai cosa Lello io credo che già il calcio abbia fatto un bel passo in avanti faccio due esempi quest'anno c'è una novità in cui l'allenatore non mi ricordo se fine primo tempo fine primo tempo fine primo tempo lo intervistano io la prima partita Juve Comero lo stadio quindi non l'avevo vista questa cosa seconda partita Juve la sui do Tiago Motta che a fine primo tempo dice ma che è cosa sta succedendo è meraviglioso cioè questa cosa qua per me è meravigliosa anche perché in quel momento lì può succedere di tutto il primo tempo è andato male c'è un episodio è andato benissimo quindi vedi proprio le differenze humorali finisci la partita hai anche il tempo un po' di respirare invece quella roba lì è autentica è molto meno autentica per dire un'altra evoluzione che abbiamo avuto nel calcio che secondo me è una roba folle è legata alla serie di Amazon che abbiamo visto con tante squadre io vi parlo quella da Juve ho visto quella da Juve quando Pirlo studia le domande e le risposte da dare in conferenza cioè lì mi dai proprio la dimostrazione che il prodottino sigillato tieni chiocchetto te lo consegno non mi stai raccontando niente quello che diceva Romeo prima e la stessa cosa la possiamo dire per Bonucci che è un altro dei passaggi di Scesni io Bonucci in quel prodotto l'ho visto sempre 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 come un attore perché ha recitato praticamente tutte le volte li aveva anche ogni tanto che aveva il sorrisino tranne in un'occasione che era quando la Juventus è uscita dalla Champions League la serie che è uscita dalla Champions League che a fine primo tempo Bonucci era incazzato con il porto con il porto era veramente arrabbiatissimo e allora dico la grassa differenza qual è? la telecamera no? è il contesto è il momento quindi bisogna essere bravi ad andare a prendere quei momenti lì umorali qualcuno potrà dire sì però poi si rischia che si spacchi lo spogliatoio quella ma può essere può essere però se siamo arrivati a un punto in cui ci sono delle telecamere tipo reality show per tutta una stagione in uno spogliatoio abbiamo davvero paura che venga fuori qualcosa che allora intendiamoci chiunque abbia giocato a calcio a qualsiasi livello basilare terza categoria amatoriale quello che volete sa che nel calcio volano i nomi nei momenti in cui le cose non vanno volano i nomi e se questa roba non sei disposto a mandarla giù vuol dire che non è il tuo ambiente quella bolla lì vuol dire che te la sei costruita da solo cioè negli spogliatoi quanti nomi e quanti stracci saranno volati in qualsiasi squadra anche quelle che vincevano tutto io credo che sia la base io credo che sia la base quindi se si perché oggi abbiamo secondo me un bel problema cioè il ragazzino si sta staccando dal calcio non lo voglio più vedere cioè il calcio come è pensato prima non lo voglio più vedere quindi o diamo un contenuto magari anche un po' più spettacolare che può essere davvero anche solo a livello comunicativo per cercare di portarti dentro una partita prima diceva Lello tagli il pezzettino del podcast fai il video di un minuto mi rimandi al video completo l'intervista pepata pre partita che mi manda a vedere la partita per vedere in cosa si traduce è già qualcosa perché comunque tu devi dare un antipasto prima del del piatto principale quindi io credo che davvero il calcio si possa salvare con con la comunicazione ma la comunicazione oggi deve essere un po' più coraggiosa sì diciamo deve uscire degli standard attuali della non so chiudi come si presenta grazie Gianfra per l'abbonamento quindi raga io se non l'avete vista questa intervista vi invito ad andare al canale di Luca passatevi le torette dieci godetevela la grandissima grazie a tutti